Nuove tecnologie per il miglioramento della salute e sicurezza nei cantieri edili. L'incontro si è tenuto lo scorso 22 maggio alla Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio. Sentiamo il presidente del sistema casa di Confartigianato Vicenza Giovanni Lovato e a seguire il direttore di Sicurform Sandro Martin. Le regole sono importantissime, sono in vigore da molti anni. La cultura della sicurezza è un aspetto fondamentale che dobbiamo cercare di trasmettere ai ragazzi. Nonostante gli infortuni, gli eventi che si verificano che sono all'onore delle cronache, comunque la tendenza di infortuni è a diminuire. E questo è conseguenza di un aumento della consapevolezza per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda quanto viene messo in campo da noi imprenditori per evitare al massimo questi avvenimenti. L'utilizzo che viene presentato oggi di esoscheletri o altre strumentazioni va esattamente in questa direzione. ridurre la possibilità di avere qualche infortunio e ridurre anche le malattie professionali che come abbiamo visto dai dati sono in sensibile aumento in questi anni. Credo che il convegno di oggi dia il segno dell'evoluzione tecnologica che c'è e che ci sarà. Il settore delle costruzioni, mi permetto di spezzare una lancia, ha investito molto in attrezzature e anche in tecnologia. C'è ancora molto da fare ma l'incontro di oggi serve anche per dire che la tecnologia sta avanzando e già imprese, per dire i broni piuttosto che gli esoscheletri, li stanno utilizzando.